Ieri non ho fatto l'omelia perché non ci sono riuscito, non perché non avessi tempo, non ci sono fisicamente riuscito, mentalmente riuscito, spiritualmente riuscito. La mia bocca si è fermata, anche il mio cervello, davanti alla grandezza di quel santo, il santo curato d'Ars. Avevo ascoltato tante catechesi che si trovano sui social, ho letto tante omelie, ho letto il libro e davanti alla grandezza di un santo, come davanti alla grandezza di tutti i santi, mi capita spesso di fermarmi. Non ho parole, preferisco il silenzio, non ci riesco, non riesco a parlare. Vedo questa mentalità dei santi così diversa dalla nostra e così diversa dal mondo attuale, dal mondo contemporaneo, dal mondo in cui io e te viviamo. Una mentalità così diversa, così diversa dalla mia e dalla tua, è così simile invece a quella di Gesù Cristo. È noto che i desideri dei santi sono gli stessi desideri nostri, hanno gli stessi desideri miei, gli stessi desideri tuoi, soltanto che loro hanno imboccato la strada giusta, la strada giusta. Noi cerchiamo di accumulare, invece loro cercano di spogliarsi, di diventare poveri. Loro sono semplici, hanno la stessa sete di gioia, la stessa sete di felicità che abbiamo noi, proprio la stessa, uguale, 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 soltanto che noi non vogliamo capire come hanno capito loro e loro sono i nostri maestri, i nostri insegnanti, che la strada da percorrere è Gesù Cristo, è il Vangelo, è la persona di Gesù, è proprio lui, è Gesù, Gesù è la soluzione. E davanti al fatto, davanti alla loro semplicità, è davanti al fatto che loro hanno scelto Cristo anziché voler creare il paradiso sulla terra, perché il paradiso sulla terra non lo creerà mai nessuno, tutti ci pensano, tutti vogliono, tutti vogliono accumulare. A volte noi viviamo come se dovessimo vivere per sempre, invece i santi vivono, hanno vissuto e vivono ogni giorno come se fosse l'ultimo giorno, i santi diversamente da noi meditano ogni giorno sulla morte, hanno così coscientizzato che si può morire da un momento all'altro, noi non ci crediamo invece, noi non ci crediamo che tra qualche minuto potremmo morire, potrebbe arrivare il momento della nostra morte come ogni giorno, noi sentiamo di persone, amici, parenti che muoiono da un momento all'altro, anche in salute. No, noi non ci crediamo, noi non ci crediamo che la morte possa colpire proprio a noi, a noi. Pensiamo sempre che sia qualcosa che debba colpire agli altri, sembra sempre una notizia per gli altri, i santi no, i santi hanno sempre meditato sulla loro morte ed è bello vedere la semplicità dei santi, come è grande il loro fidarsi, il loro sentirsi figli di Dio e vivere questa grande figliolanza e ci fanno vedere, ci fanno da specchio come questo vuoto che c'è dentro di noi, questo desiderio di gioia, di felicità, è inutile, nessuno lo riempirà mai, nessuno lo potrà mai riempire e mi fa venire in mente quando la Virgine Maria a Santa Bernadette disse io non ti farò felice su questa terra ma dall'altra parte, ma questo non è soltanto per Santa Bernadette, questo è anche per me, questa è una notizia bellissima per me e per te, che noi non troveremo mai la felicità totale sulla terra e che cosa stiamo rincorrendo, che cosa stiamo rincorrendo, noi in realtà stiamo desiderando il paradiso, noi in realtà stiamo desiderando il paradiso, ecco perché rimaniamo delusi davanti ad amicizie vissute male, quando vediamo che non siamo capiti, quando veniamo traditi, quando ci aspettiamo da qualcuno qualcosa che non ci viene dato e dopo stiamo male, quando siamo tristi, quando non riceviamo un abbraccio, quando non riceviamo un grazie, quando non riceviamo una parola di conforto, noi siamo tristi certamente quando non ci sentiamo amati, quando quando viviamo momenti di solitudine, stiamo male, certamente sono cose umane ma noi siamo tristi in realtà perché stiamo cercando il paradiso e il paradiso non è l'altra persona, il paradiso non sono le cose, non è non è un lavoro nuovo, non è una casa nuova, non è una relazione nuova, il paradiso è tutt'altro, il paradiso è tutt'altro nel Vangelo di oggi, oggi attraverso il Vangelo secondo Matteo al capitolo 17 vediamo proprio questo, oggi che celebriamo la trasfigurazione del Signore Gesù e quindi vediamo che noi non siamo chiamati a voler costruire il paradiso sulla terra, quante ideologie sono nate, quanti sforzi si fanno per costruire quasi questo mondo perfetto che non verrà, non ci sarà, non ci sarà, non ci sarà, certamente dobbiamo sempre, dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare tutto perché gli altri possano essere felici ma non ci sarà il paradiso sulla terra, Gesù lo dice quando quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà, troverà, troverà la fede, troverà la fede sulla terra, il Signore è preoccupato per questo, allora, allora oggi questa festa di oggi della trasfigurazione e ci ricorda che l'obiettivo è Dio, l'obiettivo è Dio, ma l'obiettivo è Dio anche se io voglio cambiare il mondo, voglio cambiare la società, voglio fare del bene, non ce la faccio se l'obiettivo per me non è Dio, se non è l'eternità, l'essere uniti con Lui per sempre, fratelli non ce la faremo, è umanamente impossibile, noi non siamo forti al punto di voler aiutare gli altri e poterlo fare soltanto con le nostre poche forze umane, se non c'è Dio con noi, se non c'è la relazione con Dio, se non c'è l'obiettivo, non c'è l'obiettivo, noi dobbiamo smettere di pensare, di pensare che voler costruire una società perfetta in qualche modo ci possa dare la felicità, ma noi non saremo mai, il nostro cuore non si riempie, non si riempie di questo se non si riempie di Dio, soltanto Dio ha la capacità di riempirci e se mi riempio di Dio io posso riempire la vita degli altri, io posso rimanere in piedi mentre cerco di fare del bene agli altri, rimango in piedi perché non si può fare il bene non essere attaccati, non si può fare il bene e non soffrire, noi non possiamo vivere una favola, fare del bene come se fosse una favola, è impossibile fare del bene e che ci vada tutto bene, è impossibile servire i fratelli e non essere colpiti, il male quando vede il bene comincia a colpire perché il male esiste, perché c'è ed esiste il maligno che colpisce, cerca di colpire il bene, quindi tutti coloro che cercano di fare il bene vengono colpiti e se non c'è una relazione forte con Dio è impossibile andare avanti, impossibile sostenere la prova, è impossibile sostenere i colpi dardi infuocati, è impossibile, se non c'è preghiera, se non c'è adorazione, se non c'è vera ricerca di Dio, noi dobbiamo diventare più poveri, dobbiamo diventare più poveri, cioè dobbiamo toglierci dei pesi, dobbiamo spogliarci di tutto ciò che ci rende pesanti, se no non possiamo seguire Dio, non possiamo seguire il Signore, allora dobbiamo cercare anche noi un monte sul quale salire, stare con Gesù Cristo, ma anche il monte Gesù Cristo, salire Gesù con Gesù per Gesù e ricordarci di questa parola che ripetiamo sempre eternità, eternità, se non c'è l'eternità non serve a nulla, nulla, nulla nel bene e nemmeno il peccato, a che mi giova se non esiste nulla, se dopo la morte non c'è nulla, oggi la trasfigurazione di Gesù ci ricorda quello che noi saremo uniti in Cristo, noi siamo chiamati alla vita eterna, siamo chiamati alla risurrezione, è questo la nostra vera vocazione, è questo che noi dobbiamo cercare, non domani, adesso, in questo momento, in Italia, in tanti posti Italia, oggi è maltempo, bene, sii felice, hai del tempo per stare con Gesù Cristo, legge un passo biblico, meditalo, prega, riunisciti in preghiera anche con altre persone o fallo da solo, inginocchiati, inginocchiati e cerca il Signore, medita sul Signore, pregalo, invocalo, chiamalo per nome, stai con Lui, è Lui il vero sole, è Gesù la vera estate, è Gesù il vero riposo, tuffiamoci in Lui e fratelli miei, vi prego, non dividiamo la fede in Gesù dagli atti della nostra vita, non dividiamo queste due cose, gli atti della nostra vita, quello che diciamo, quello che facciamo, non sono divisi dalla nostra fede, anzi, devono essere proprio quelli esplicitazione di ciò in cui io e te crediamo, in colui in cui noi crediamo, non posso dividere la fede in Gesù, col mio modo di parlare, il mio modo di pensare, perfino la politica, la politica che io scelgo, il partito politico che io scelgo, deve rappresentare la mia fede, la mia fede, la dobbiamo smettere di dire io sono cattolico e poi scelgo partiti che sono a favore dell'aborto, dell'eutanasia, dell'omosessualità e basta, fratelli miei, basta, non è possibile, non è possibile, non è possibile più, non è possibile più questo, non possiamo dividerci con la nostra vita pratica, la fede non è un sentimento, la fede va vissuta e va vissuta proprio attraverso la nostra vita. Amen.